Corsa, turismo, gastronomia e spettacolo. Questi sono stati i quattro ingredienti che hanno caratterizzato la quattordicesima edizione del giro polistico a tappe delle Isole Olie. Ben 115 atleti provenienti da varie regioni italiane si sono dati battaglia nelle cinque prove previste dall'organizzazione curata dell'Europa Messina. Dalla più breve di Vulcano, di solo 5,5 km, alla più lunga di 14,5 km, che da Santa Marina Salina ha portato il plotone a Rinella. Sì, un anno che abbissa l'anno passato, grande partecipazione, 120 circa i podisti, tanti gli accompagnatori in una cornice straordinaria. Come mai è nata questa idea di organizzare questo giro? Ma un incontro fortuito, 14 anni fa con Crisa Fulli ci siamo incontrati così, per sbaglio si parlava di giri podistici, di corse a tappe. E allora mi ha lanciato quest'idea, io mi occupo di turismo, faccio incoming in Sicilia, ho detto ok facciamola insieme e dal primo anno devo dire un grande successo inaspettato. I vincitori sono stati in campo maschile Salvatore Francese, portocolori dell'atletica RCM Casinalbo, che ha bissato il successo del 2013. È stata una bellissima manifestazione, come l'anno scorso ho ripetuto, mi sono trovato molto bene, è cambiata solo la tappa finale ma mi è piaciuta ancora di più e adesso vediamo se il prossimo anno ci sarà l'occasione di ritornare. Ben 42 donne in gara, ad imporsi è stata la bravissima Gloria Marconi della Corradini Calcestruzzi Rubiera. Sì, qui le tappe sono abbastanza corte a parte quella di Salina, però si sentono tutte perché comunque la temperatura si fa sentire, quindi la rende molto più impegnative di quelle che parrebbero sulla carta. No, belle tutte. Io le sto affrontando con l'impegno dell'allenamento, quindi sto cercando anche di tirarle un po', anche se potrei farle più tranquillamente, però mi piace impegnarmi. Un evento che da 14 anni riesce ad abbinare lo sport con il divertimento e il relax grazie anche al meraviglioso Arcipelago Eoleano, che cattura l'interesse di atleti e familiari che per una settimana sono i grandi protagonisti di uno dei giri podistici più apprezzati al mondo.